Vieni a te! Oddio ma c'hanno i capelli da contadini! Michele mi si riconfirma, ragazzi! No! 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 Abbiamo gana in giungla! E' fantastico! Ti prego dimmi che tiene l'exhaust, ti prego dimmelo! Dimmi che tiene l'exhaust! Allora, visto che la partita scorsa l'ho persa per vari motivi... Tentrò di rifarmi in questa partita visto che, per fortuna, sono riuscito ad andare top! Allora, essendo che entrambi i team hanno una composition un po' particolare... Non riesco a continuare la frase... Adoro quest'uomo! Exhaust smite! Cioè... Pro LCS sciacco! Oddio ci abbiamo top fu... AD! Ci abbiamo AD top! Fantastico ragazzi, fantastico! Uh, pelo! Pelo e contro pelo qua! Uh, guardatelo lì! No! Ma... Mmm! Cazzati neri! Dai così! E' guarda un executed! E' vai! Ogni partita c'è qualcuno che muore in giungla! Cazzo! Muori strozzo! Altra kill! Cazzo! Se me ne accorgevo prima anziché scrivere! Nooo! Ho fatto una strozzata! Ma del mezzo è minion! Come l'ho preso? Ragazzi, qua ci vuole più attack speed! Perché altrimenti non combiniamo una sega proprio! Abbiamo il nostro Garion... Sì sì sì! E' vinto, è vinto ragazzi! Pure l'exhaust! Ma cosa possiamo ritengere di più dalla vita? C'è un Garion con l'exhaust giungla! Cioè, boh! La guarda! La piazziamo più lontano! Perché piazzarla nel bush attaccato alla lei non serve a nulla quando c'è contro a Aethery! No! E' AP! Stiamo scherzando! Dici sui serio! E' così idola da farlo AP? Ma che cazzo? Mmm! Attenzione partono le legnate! Sì ragazzi! Sì! Mamma mia! Incazzatissimi siamo! Incazzatissimi! Mi trema perfino la minchia! Oh mi sembrava di aver visto... Gesù! No! 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 Tu! Prendi qualcuno! Dove vai? Ignorante! Amma... Tira la sui! Sì! Ah! Sì! Vai! Incazzatissimi! Ho fatto una cagata! Fail! Epic! Epic fail! Cioè non che sarebbe qualcosa la mia ulti eh però! No! Ecco! La ulti! Uh! Doge! Epic dodge! No! La ulti! Dove mi sbagli la cu! No! Dai lì! Cazzo! Affaculo! No! Ecco cosa mi serve la ulti! Ora basta ora tu muori! No 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 basta mi hai fatto incazzarti! No! 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 Sono più veloce io! Non frega una sega! Io ti chaso! Ti chaso! Minchione! Ti chaso! E lo prende! E lo prende! E lo prende! Uuuuuh! Uuuuuh! Oh! Beccati questo! Non so con cosa ti ho ucciso ma è giusto che ti sei morto! Man! No! Minchie! Non aspettavo quella ulti! NP I destroyed the tower Per vendita è la figura di me! Vai Galen! Così! Così! Fatemi vedere! Vai! L'occasione giusta! Vai! 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 Così! Vai! Così! vediamo qui! Ansiamo... Dai fratello! Prendila! No, no, aiuta One shotato, G Guarda il cavallo, guarda il cavallo wow wow davvero questa partita è stata unica 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 davvero spero davvero che il video vi sia piaciuto e noi ci becchiamo al prossimo riser 2 ciao